Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del crogiolo ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città-villaggio-roccaforte dove mi sono recato una tappa è sempre stata fissa, l'emporio, ed è lì che grandi tesori si celano in attesa di essere scoperti e mostrati, portando a conoscenza di quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando le gallerie grottesche, mi sono recato personalmente nel mercato locale, dove mi è stato suggerito un prodotto che rappresenterà la soluzione ideale per ogni tipologia di segnalino. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'emporio del crogiolo. In questo episodio il mercante consiglia il Token Slayer Convertible di casa Gamegenic. Il prodotto si presenterà in veste minimale Total Black completamente realizzato in materiale Nexofiber Plus e riporterà il logo della casa madre sulla parte superiore e quest'ultimo con il nome della Gamegenic stessa sia sul lato destro che sinistro. Una volta tolto il coperchio dall'accessorio, che verrà fissato alla struttura principale attraverso un sistema a magneti, vi ritroverete davanti a quattro scompartimenti a sé stanti, ognuno rappresentato da un proprio colore, blu, verde, giallo e rosso. Ogni cassetto inoltre riporterà il nome della casa produttrice sulla parte frontale. Una volta estratti questi ultimi dal proprio alloggio in modo rapido, facilitato anche dalle scanalature a semiluna integrate al prodotto, i contenitori riporteranno anche all'interno una stoffa con la stessa tonalità intravista dall'esterno, realizzata in microfibra esclusiva, con il marchio della Gamegenic impresso sul fondo in trama argentata. Ogni compartimento inoltre avrà una misura di 8 cm per lato per 2 cm di profondità, permettendovi di includere qualsivoglia token avrete in mente di portare con voi per le sessioni ludiche che vi attenderanno. In più saranno integrate all'interno di ogni cassetto delle piccole calamite che vi consentiranno di unire le diverse sezioni tra esse, formando un singolo spazio dedicato ai token sul tavolo da gioco. E a proposito di spazio dedicato ai token, il coperchio, che potrà essere tranquillamente staccato sul fronte per poi essere attaccato sul retro dell'articolo, evitando così che si vadano a dostruire aree dedicate al match che affronterete, potrà tornare utile anche come lanciadadi. Infatti attraverso un sistema magnetico posto agli angoli, esso fornirà una comoda superficie dotata di bordi perimetrali che riporterà, anche in questo caso, come per i cassetti, il logo della casa madre al centro in trama argentata. E così, una volta utilizzato ogni aspetto possibile del layer, non vi basterà altro da far che riposizionare ogni segnalino, dado o moneta nel suo cassetto dedicato, inserire ogni scompartimento al proprio posto, trasformare il coperchio da lanciadadi nella sua vera natura, chiudere il tutto ed avere sempre a disposizione ogni risorsa disponibile per match sempre più avvincenti. Unica pecca che ho trovato è proprio il coperchio, che a pieno carico faticherà leggermente a mantenere sigillato il contenuto. Vi mostro. Magari sono stato sfortunato io e sono incappato in un errore di fabbrica, ma devo mostrarvi le cose per come stanno e mi auguro che questa problematica sia capitata solo ed unicamente al sottoscritto. È una spasa di segnalini, proprio. Ma a parte questo aspetto per nulla trascurabile, che sono certo i signori della Gamegenic potenzieranno come solo loro sanno fare, trasformando questo accessorio in un vero e proprio Fort Knox, il resto è davvero straordinario. L'idea di base c'è ed è meravigliosa. Avere tutti i segnalini in un unico posto rappresenterà per gli appassionati dei DCG e non solo, una soluzione pratica e comoda da utilizzare in ogni momento della propria esperienza ludica. Consiglio quindi l'acquisto di questo accessorio, soprattutto per non avere tante scatole e scatolette sparse nello zaino, che a differenza del coperchio, che comunque dovrà essere sottoposto a grandi forze per poter venire via, vi faranno trovare sparsi anche tutti i segnalini che porterete con voi. Vi parlo per esperienza personale. Prima di concludere, volevo ringraziare la Gamegenic per aver fornito l'accessorio mostrato in questo contenuto. Come sempre vi lascerò tutti i link di riferimento in descrizione. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio verso mete più o meno distanti, dove gli empori del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto!